Alving, 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 manca pochissimo, veramente pochissimo, cioè due giorni e sette ore da quando sto registrando questo video per assistere all'Alving di Bitcoin. Questo evento storico, un evento che ci accompagna veramente da tanto tempo e sono contento di essere qui per l'ennesima volta insieme a voi per questo ennesimo Alving, ma a noi poi quello che interessa è anche andare a comprendere come questo evento, che è un evento impattante da un punto di vista di analisi fondamentale per quanto riguarda Bitcoin, va a modificare tutte quelle che sono le proiezioni di andamento del pricing di Bitcoin e quindi il suo andamento nei prossimi mesi, ma soprattutto e in particolar modo in maniera indiscriminata l'eventualità di poter assistere a un alt season imponente come quella che abbiamo visto nelle scorse Burnan e come quella che partono quasi sempre dopo l'Alving. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video incredibilmente figo perché andremo a vedere un modo di poter eventualmente sovraperformare l'andamento di Bitcoin utilizzando delle azioni, delle stocks, ed è un video dedicato proprio alle stocks dei miners, quello che è successo nei precedenti anni del Alving di Bitcoin, come le stocks dei miners, i più grandi al mondo, hanno performato e vi farò vedere come in effetti hanno fatto un 2x, 3x anche rispetto alle performance di Bitcoin. e non sarebbe male magari aumentare il tiro in un concetto del genere per avere strategie magari molto più speculative andando proprio a utilizzare le stocks. Ma prima di ogni cosa il lancio della moneta che ci sta portando... Ah, finalmente ragazzi, allora è uscito il lancio con la B, quindi è uscita sostanzialmente il rialzo di Bitcoin. Questo vediamo quanto dura anche perché il prossimo video è dopo domani. Vediamo se saliamo fino a dopo domani e vediamo che succede. Ma tra le altre cose ragazzi, prima di tutto volevo raccontarvi un aneddoto, un aneddoto interessantissimo perché pochi giorni fa stavo parlando insomma con alcuni amici e noi facciamo criptografia, andiamo a vedere la sicurezza, le password, dove mantenere attraverso i wallet sicuri tutto quello che sono i dati insomma di Bitcoin, delle cripto eccetera. Abbiamo l'hard wallet, quello così eccetera eccetera. Beh la maggior parte delle persone, ragazzi, non hanno il password manager. Cioè loro segnano le password sui fogli di carta, le password ragazzi, sui fogli di carta. Allora lì ho detto ma è possibile? Allora tutta la sera a parlare di scarica di un password manager per gestire tutte queste password. Va bene, allora ragazzi ho detto va bene, lo sai che ci fai? Scarica di quello di NordVPN che uso anche io, il NordPass, tra le altre cose. Perché? Perché intanto è impossibile nel 2024 non avere un password manager. Ma come fate? Dico io, è impossibile. Io dico ma, cioè che fa? Tutta a memoria. Ma poi vi hackerano la password in un secondo. Cioè mi raccomando ragazzi, password manager e poi in pratica mi consente anche di creare delle password differenti. Perché la maggior parte di quelli che poi ti segnano la password sul blocchettino intanto poi lo perdono eccetera. Ma a parte questo generano delle password che sono sostanzialmente molto semplici. E questo impone una sicurezza bassa ragazzi. Vi assicuro che noi nel mondo crypto non lo sappiamo. Quindi prima regola fondamentale del crypto investitore avere un password manager importante. Va bene. Allora NordVPN tra le altre cose è un'azienda, un'aziendina piccola ragazzi da circa 3 miliardi di fatturato. Una cosetta proprio da niente. E ovviamente l'azienda che primeggia dal punto di vista anche della sicurezza perché nei amanti del settore delle crypto la possono utilizzare anche e soprattutto per la protezione dei dati. Quelli che transitano attraverso internet nel momento in cui andiamo a inserire dei dati che noi non vogliamo siano visti. Ad esempio il seed, dei wallet eccetera. Usare NordVPN è fondamentale. Ma Norda ha anche il password manager. Quindi una volta che fate una cosa fatele entrambi. Io non mi fido dei password manager quelli gratuiti. Ho sempre visto che non funzionano bene. Poi non hanno alcune funzioni in particolare insomma molto molto utili. Quindi ragazzi password manager a go go. Tra le altre cose vi lascio anche i link in descrizione per NordVPN per la super offerta perché oltre a quello che c'è lo standard che loro danno del 68% di offerta per il BNL come abbonamento più di 3 mesi gratuiti. Dal link in descrizione avete 4 mesi gratuiti più 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Questo ovviamente nella promo dello sponsor. Quindi ve lo lascio in descrizione ragazzi. E poi vi ricordo anche una super funzionalità di Nord che secondo me per chi lavora nel settore delle crypto è impossibile non avere. cioè la threat protection quindi protezione sul web blocchi i siti pericolosi, i tracker web rimuove gli annunci fastidiosi, protegge i file dal malware eccetera. Queste cose che sembrano leggere nel momento in cui avviene un pericolo, un qualcosa. Abbiamo visto mille scam nel settore delle crypto, quelle mail che ci arrivano la mattina alla serie, tutti i link scam praticamente. Molto più utile utilizzare questo tipo di servizi che ci blindano e ci proteggono i nostri dati. Non succede mai, ma se succede nel settore delle crypto è una super super un super tanno. Quindi mi raccomando, ok? NordVPN vi lascio il link in descrizione. I titoli dei miner di Bitcoin scendono per i timori infondati sui profitti post-holding. Tutti i titoli dei principali miner di Bitcoin nelle ultime settimane sono affondati in maniera più importante rispetto a Bitcoin. Abbiamo visto in sostanza che questa struttura ribassista di Bitcoin ha creato non poco panico perché ragazzi abbiamo visto un Bitcoin che è andato dai massimi a perdere più o meno un 15% e poi abbiamo assistito invece ad altcoin che sprofondavano senza sé e senza ma. Ad esempio le criptovalute, anche quelle nella top 10, per esempio insomma le top 20, anche come ADA in questo caso, si è andata a sparare un meno 48, meno 50, ma non è la sola, la stessa AVE per esempio ha performato abbastanza maluccio senza considerare le scialdo, siamo a meno 48, meno 40%, AVAX stessa identica cosa, insomma un 15% di Bitcoin, meno 50, l'unica che si è salvata, devo essere sincero, è Binance Coin che è messa molto bene ultimamente che ha fatto un meno 20, più o meno un meno 15, tra meno 15 e meno 20%. Le altre indiscriminatamente tutti hanno perso, ma la stessa Ethereum ha perso abbastanza, con delle shadow anche pronunciate, era arrivata fino a meno 28%, poi si era assorbita intorno a meno 23%. Insomma, basta o niente, per quanto riguarda Bitcoin, si va giù in un certo modo. E giù ci sono stati, sono andati anche i grandi miner, cioè quindi le aziende, in pratica, dei miner di Bitcoin che andremo a vedere oggi. Perché? Perché c'è una domanda alla quale voglio rispondere, che mi è stata fatta qualche giorno fa, cioè relativa alla questione proprio dei miners di Bitcoin, e se utilizzando le azioni, le stocks dei miner di Bitcoin, possiamo fare una replica post-halving, per esempio, per l'andamento post-halving di Bitcoin, a un 2X, 3X. Quindi la domanda è molto semplice. Tutte le aziende miners stanno sottoperformando BTC. Di solito hanno un esponenziale, sia rialzo che ribasso, di 2, 3X. In sostanza agiscono aumentando il rialzo, il ribasso di Bitcoin con un 2 o 3 per, dice l'utente, ma è assolutamente vero. Mentre negli ultimi giorni queste stanno soffrendo con Bitcoin anche ai massimi. Come li vedi, post-halving, nel precedente halving, hanno performato circa il 626%, ha fatto Bitcoin, mentre le aziende dei miners hanno performato con il 2700%. Allora, molto utile questa domanda, molto utile anche andare a rispondere. Possiamo utilizzare le aziende dei miners per il post-halving? Invece di investire su Bitcoin andiamo a speculare, perché in quel caso è una speculazione, agendo sulle aziende dei miners di Bitcoin, perché se sale Bitcoin saldano anche loro con un 2 o 3 X e quindi cerchiamo un tentativo di speculare in un certo modo, ci sono tanti pro e tanti contro in questo tipo di ragionamento. Andiamoli a sviscerare in questo contesto. Allora, punto numero uno, i pro, di fare una cosa del genere. Vado a diversificare il mio investimento, perché posso decidere di operare su Bitcoin andando ad agire con un certo quantitativo di capitale, ad esempio immaginiamo 100.000 euro, che io ho 100.000 dollari, che io ho dedicato alle criptovalute, questo significa che dovete avere capitali maggiori anche nell'economy, perché sapete le cripto sono ipervolati, eccetera, quindi mi raccomando, asset allocation, in particolar modo molto delicata, nel settore delle criptovalute, dovete essere molto bravi anche in queste cose. dopodiché di questi 100.000 dollari, però io decido di speculare con una parte in maniera ulteriore, quindi magari 80.000 li lascio su Bitcoin, ma i quei 20.000 li prendo, li uso per comprarmi le aziende dei miner, del mining di Bitcoin, per appunto fare questo 2x, 3x, senza pagare però il funding, perché dov'è il concetto legato? Allora io potrei fare la stessa cosa andando a comprare in maniera speculativa Bitcoin utilizzando i future a leva, ma in un contesto del genere, essendo un investimento di questo tipo fatto per il medio-lungo periodo, sarebbe sbagliato, perché io in quel modo vado a subire tutto il costo del funding di Bitcoin della leva finanziaria, e quindi mi viene calcolato, e più sale Bitcoin, più il funding è altro, questo significa che io alla fine avevo pagato 20-30% solo di costo, ragazzi, ok, i numeri sono alti, magari facciamo di nuovo il 150-200%, però il 20-30% di costi, ma anche no, ok, detto questo, insomma, in un certo modo è importante comprendere queste cose, perciò l'utilizzo delle stock, in questo caso, quelle del mining, ci rende questa cosa più agevole, perché lì non pago i costi, semplicemente ho maggiore volatilità, quindi il pro è agire con leva e speculare, e non pagare i costi del funding, ma ci sono anche dei contro palesi, cioè lo stesso lato, l'ambivalenza della famosa moneta, da una parte e dall'altra, se da una parte aumento le possibilità di fare gain, non pagando il funding, perché ho una specie di leva, dall'altra sto aumentando i rischi, perché se non avviene appunto una app, un post-alving importante, io mi ritrovo anche quelle azioni, che potrebbero valere molto di meno, potrebbero addirittura scendere, oppure non performare come Bitcoin, perché ricordiamoci che comunque nel mercato classico, le stocks agiscono anche in base ai fatturati, e alla gestione aziendale, è molto importante la gestione aziendale del team, quindi non solo la parte speculativa, quindi questi sono i dati da andare a controllare, perciò mentre l'investimento su Bitcoin, lascia il punto interrogativo solo sull'andamento di Bitcoin, l'investimento utilizzando anche i miner di Bitcoin, e quindi le aziende di mining di Bitcoin, va a ragionare anche sul bilancio di quelle aziende, va studiato il bilancio, va compreso che cosa stanno facendo, oppure agire solo ed esclusivamente di analisi tecnica, con tutti i problemi che ne possono sorgere ovviamente, dovevo sapere che potrebbero non performare in un certo modo, proprio perché esistono magari dei problemi di bilancio, che io non ho visualizzato prima. Andiamo a vedere quali sono le aziende di mining più importanti, e che cosa stanno facendo, facciamo anche un confronto con i dati storici precedenti. Allora, io vi ho inserito qui quelle che sono circa sette aziende di mining, e le andremo a vedere. La più importante di tutti, la più grossa è Marathon Digital, che in effetti negli ultimi anni, tra le altre cose, è diventata anche una delle aziende più importanti, quindi le aziende dei Bitcoin miner Marathon, hanno sovraperformato quelle dei concorrenti, anche in vista di un possibile rapporto sui utili molto forte. Tant'è vero che questo rapporto c'è stato, perché se andiamo a vedere, per esempio, i dati che ci mostra, io non so se questi dati sono perfetti, ragazzi, quelli che ci mostra TradingView, non ho spulciato poi i dati, per verificare se effettivamente hanno i dati perfetti. A volte bisogna anche, quando si ragiona di analisi di bilancio, bisogna anche verificare che i dati che vediamo online sono giusti. Questo è importante, quindi ve lo dico, non li ho verificati, credo che TradingView, diciamo, faccia di solito un ottimo lavoro, perciò dovrebbero essere corretti. In effetti poi, i dati relativi agli utili sono stati maggiori per questa azienda. Tra le altre cose, è una delle poche, perché se andiamo a vedere altre aziende, come Riot, per esempio, Riot Platform, ha dei utili che sono non buoni. Ecco, questo è il discorso, questo è appunto il rapporto degli utili degli ultimi anni. Ok, il 2022 erano tutti negativi, ma anche il 2023, guardate, gli utili sono tutti comunque negativi, solo il Q4 del 2023 ha portato all'utili positivi, mentre su Marathon abbiamo utili positivi già dal primo trimestre del 2023. E questo è importante, perché insomma questa cosa, diciamo, sono stati, a dire la verità, questi sono negativi, ma pochissimo negativi, però già dal terzo trimestre erano abbastanza positivi e il quarto sono stati molto positivi. Quindi in linea di massima ha un andamento interessante da questo punto di vista, quindi dal punto di vista degli utili. Vediamo la questione in braccia del pricing, per esempio di Marathon. Che cosa è successo nella precedente fase di Bull? Io qui ho messo un grafico a una settimana per avere un'immagine assolutamente più nitida. Andiamo a vedere quello che ha fatto, cioè dai minimi del marzo 2020, dove Bitcoin aveva segnato in effetti i suoi minimi della precedente fase del crollo dalla pandemia. Ve la sto riprendendo. Eccola qui. Abbiamo avuto Bitcoin che ha performato, andando a utilizzare la shadow, in pratica andiamo a utilizzare la shadow di Bitcoin. Abbiamo un Bitcoin che ha performato fino ai massimi del 1691%. Andiamo a vedere la performance invece di Marathon Digital. Allora, da qui a qui abbiamo una performance del circa 24.000%, quindi una performance imponente, devo essere sincero. E questo vi dice tutto la questione. Allora, qui ovviamente la performance che sto utilizzando di Bitcoin è proprio dai minimi del crollo della pandemia. E la stessa cosa ho fatto qui. Il crollo della pandemia avvenne nel caso di Bitcoin il 12 di marzo. Se non erro, fatemi dare un'occhiata. Esatto, l'ultimo minimo fu il venerdì 12 di marzo. A dire la verità, avvenne nella notte del 12 di marzo fino al giorno dopo, 13 marzo, la mattina, intorno all'1-2 di notte, se non ricordo male. Io ero davanti al monitor, mentre qui abbiamo un minimo che si protrae per un po' di tempo. Comunque nella settimana del seggi, quindi è quella lì. Allora, la differenza qual è stata? In termini percentuali enormi, perché qui abbiamo un rialzo che passa, diciamo, porta da 0,35 centesimi addirittura a un massimo di 85 dollari circa questa azione ed è imponente perché appunto è il 24.000% che è diviso, diciamo, la percentuale di rialzo di Bitcoin che invece ha performato il 1691 e in pratica, vi faccio subito il calcolo, pari a 14 volte, 14 volte il rialzo di Bitcoin, quindi non è un 2x, ma è un 14x il rialzo di Bitcoin. Pazzesco, ragazzi, una roba del genere. Quindi, già questo ce la dice lunga, andare a prendere, per esempio, delle azioni relative ai miner potrebbero, no, magari darci un risultato notevole. Il gioco forse vale la candela, un 14x magari non lo fa questa volta, ma magari un 6x lo va a buttare giù. Questa cosa potrebbe essere interessante perché potrebbe darci tante informazioni, ma un dato lo abbiamo. Come si è comportato dal rialzo da novembre 2022 in poi? C'è la stessa proporzione, è questo. Qui, diciamo, casca l'asino, no? Andiamo a fare lo stesso tipo di gioco di sviluppo tra Bitcoin e appunto Marathon, andando a vedere che cosa è successo, non nella precedente fase di bull, ma nella fase attuale. Il rialzo di Bitcoin è stato dai minimi del novembre 2022 del 377%, circa, non sto andando al centesimo, da novembre del 2022. Qui intanto abbiamo avuto ancora dei mesi negativi perché novembre 2022 non ha fatto il minimo Marathon, ma l'ha fatto a dicembre del 2022. In sostanza, da dicembre al massimo abbiamo avuto il 989%, quindi la performance è stata maggiore, però non nella stessa misura, perché qui abbiamo avuto 377% e lì abbiamo avuto 989% che appunto facendo di nuovo i calcoli corrispondono a circa un 2x, ragazzi. Quindi intanto, punto numero uno, la percentuale di estensione si sta riducendo. Questo per un motivo molto semplice, Marathon non quota più così poco come quotava prima, quindi una cosa è partire da questi livelli, una cosa è partire da questi livelli. Però comunque abbiamo ancora un 2-3x che è una performance interessante, potrebbe essere mantenuta con un dato del genere, quindi già siamo scesi dal 14x a una cifra più accettabile. Questo direi un 2x secondo me può essere tranquillamente mantenuto nella prossima eventuale bull run, quindi è possibile assistere a una cosa, a un evento del genere. L'azienda andrebbe analizzata anche sotto un profilo aziendale per andare a vedere appunto se fanno bene i compiti a casa, ma rispetto alle altre si sta comportando molto meglio, per esempio questa qui. Andrei a diversificare anche su altre aziende? Forse sì, ma non tantissimo. Per esempio, non le andrei a utilizzare tutte e sette. Sennò che però c'è anche da dire un'altra cosa. Questa percentuale di correlazione a 2x la mantiene anche nella fase di bassista, perché per esempio qui abbiamo perso il 58% contro bitcoin che aveva perso circa il se non erro 15%, quindi dai massimi bitcoin è andato down qui del 17-18%, quindi abbiamo un 58% diviso un 18%, quindi un 3x, quindi la mantiene vedete anche al ribasso. Però il trend è rimasto ancora rialzista e soprattutto l'azienda in questione è anche lontana dai massimi, quindi potrebbe avere in effetti un effetto impulsivo anche in misura leggermente maggiore del 2-3x se per caso magari entra un po' di pomo nel settore. Quindi agire utilizzando le aziende dei miner di bitcoin per sovraperformare un eventuale burran post-halving è una strategia utilizzabile con tutti i crismi, quindi volatilità non raddoppiata ragazzi, triplicata almeno, mettetelo in conto, ciò significa rischi tre volte superiori a quelli di bitcoin, quindi alleluia, ok? Vabbè, mi raccomando. e a parte questo però vorrebbe dire che se le cose vanno in porto io utilizzando lo stesso capitale su questa stock intanto non deve uscire per esempio dall'ambito dei miei investimenti che ho sulla mia banca, posso utilizzarli comprando l'azienda direttamente quindi è molto più facile, la gestione delle tasse è più semplice, è tutto più semplice sapete, in questo contesto e posso avere una performance di addirittura tre volte quella di bitcoin con i rischi connessi a tutto quello che c'è da dire. Ovviamente valutate sempre il trend che sia mantenuto stabile e valutate sempre che ci sia una relazione che si mantenga stabile perché questo tipo di correlazioni tra un asset e un altro asset ci sono ma spesso poi col passare del tempo cambiano quindi ricordatevi che non è una cosa di cui possiamo avere contezza per sempre ma dobbiamo sempre verificare volta per volta se c'è o non c'è. Andiamo a vedere poi l'ultima questione legata al principio di eventuale diversificazione per esempio alcune aziende come Riot potrebbero anche essere prese in considerazione anche in vista per esempio delle enorme app che ha fatto per esempio Riot ha fatto un'app del 15.000% nella scorsa fase ma per esempio in questa fase ha invertito tra l'altro anche il trend ha fatto solo tra virgolette il 500% quindi molto simile a Bitcoin neanche 2x e tra le altre cose è in questa fase un pochino più deludente tant'è vero che ha già rotto la fase di bassista sta perdendo di più tant'è vero che se andiamo a fare il calcolo è peggiorativo anche rispetto a Marathon anche se è di poco quindi è salita poco e perde un po' di più rispetto a Marathon questo perché come vi dicevo è l'impatto della gestione aziendale voi dovete considerare che non stiamo investendo solo su un asset come Bitcoin che non ha spese di gestione aziendale non ha un team che lo gestisce bene o male è come una commodity noi l'abbiamo sempre detto nel caso invece di una stocks dovete andare a ragionare sulla gestione aziendale quindi in questo caso performa peggio le altre tra le altre cose sono peggio ancora per esempio guardiamo App che è è salita praticamente quasi uguale a Bitcoin mentre è scesa molto di più molto di più quindi molto negativa poi abbiamo Bitfarm che invece performa bene come Marathon nella precedente fase era giovanissima quindi non c'era in una fase di marzo ha iniziato la sua galoppata poi da ottobre ma ha fatto comunque una performance del 6.000% mentre è più attendibile il dato di questa fase qui dove da dicembre è salita del 900% come Marathon e sta perdendo di meno quindi questa è interessante perché sta perdendo come appunto Marathon quindi meno delle altre e potrebbe essere utilizzata anche in questo contesto per diversificare magari non mettere tutto su Marathon se si vuole fare questo tipo di ragionamento ma diversificare un po' e fare non so 40 20 20 una roba del genere 20 20 20 mi manca un 20 infatti stessa cosa Ive per esempio Ive che ni ragazzi ancora qui vedete come stanno ragionando male male in questa fase alcuni dicono come è pubblicato ad esempio in questo articolo di Cointelegraph che i motivi del timore delle discese sono infondati e che in pratica la redditività post-alping di queste aziende non cambierà questo è da vedere nelle analisi di natura contabile quindi nei bilanci se è vero questo allora la performance di queste aziende sarà ancora di più superiore rispetto a quella di Bitcoin perché c'è stato un eccesso di negatività da parte del mercato nella valutazione dei prezzi aziendali di queste azioni per via della paura del ladding e quindi il ladding è diventato un fenomeno negativo e non positivo per queste stocks e quindi interessante andare a vedere poi c'è la Bitder che tra l'altro ho utilizzato io anche tanto questa non è cinese se non sbaglio Singapore non è americana le altre stanno in US e qui è per esempio un rialzo ni cioè 400 passa per cento e un ribasso e beh boom ok anche qui ragazzi c'è poca roba questa se non erro è australiana Iris Energy e tra le altre cose ha avuto una zona di rialzo nelle fasi di questa bull dell'ottocento 40% una zona ribassista non malaccio diciamo così un 56% quindi tra queste Iris Energy che però se non erro è la più piccola Bitfarm e Marathon stanno performando meglio dalle altre quindi possibile utilizzo di diversificazione per queste stocks andiamone a monitorare nei prossimi mesi se inizierà da maggio giugno che sia in poi una gamba vera rialzista quella che ci aspettiamo appunto e di cui vi ho fatto la testa grossa così potrebbe essere significativo anche andare a verificare cosa fanno queste stocks e perché no una volta fatta un'analisi su Bitcoin magari agire a livello speculativo con tutti i crismi su questa roba mi raccomando se fate roba del genere senza formazione adeguata siete dei pazzi ragazzi e qualsiasi rendimento abbiate fatto facendo una cosa del genere senza formazione è pura ed esclusiva fortuna se lo avete fatto una volta non ricapiterà la seconda volta mi raccomando azioni di questo tipo estremamente speculative sono pericolosissime dovete avere formazione sapere mettere lo stop lost programmare tutto dovete avere esperienza per fare queste cose non è semplice come sembra nelle descrizioni quindi mi raccomando non do consigli finanziari e soprattutto non fate i kamikaze con queste cose piuttosto spendete un due tre mesi della vostra vita a formarvi un po' su questi argomenti e avete in quel caso magari maggiore protezione allora lì perché no poi si può fare la maratona va bene gioco di parole basta ragazzi chiudo così perché dopo questa roba che vi devo dire ho fatto i giochi ciao 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 Grazie a tutti.